Ciao, sono Fabio Argento, un semplice appassionato di moto esattamente come te. Sono il titolare di Moto Argento e voglio presentarti un'offerta davvero esclusiva, pensata per valorizzare al meglio la tua prossima moto. Voglio regalarti ben 1550 euro oggi. Appartengo a quella generazione cresciuta con 125 due tempi, quelli che si emozionavano a guardare le vetrine del concessionario, quelli che si immaginavano di guidare le RC30, le RC45, i Suzuki 7.5 e perfino le Yamaha R6. Sono uno dei tanti che ha provato le farfalle allo stomaco, osservando le forme sublimi della 916 e dell'MVF4, disegnate dal Michelangelo del moto Massimo Tamburini. Moto Argento ha vissuto un anno davvero strepitoso, focalizzandosi solo nella vendita delle moto supersportive. E proprio per questo, per festeggiare questo grande successo, ho pensato ad una promozione davvero straordinaria, pensata solo per te. Moto Argento è conosciuto soprattutto per le sue moto usate di altissimo livello e per l'opzione prova di 3 mesi e 2000 km, per la sua garanzia unica nel suo genere, che copre pure i materiali di consumo. Per realizzare tutto ciò, ogni singola moto viene sottoposta a un ricoroso controllo, composto da ben 52 interventi, che verranno realizzati da un nostro tecnico qualificato, il quale diverrà il tuo meccanico di fiducia. Chi ti dà tutto questo? Nessuno. Per ogni singola lavorazione, riceverai foto e video dettagliati, e questo avverrà anche ad ogni intervento successivo di manutenzione, ed è un servizio esclusivo, solo nostro. Quello che sta per presentarti è la nostra offerta rinunciabile, la nostra promozione estate 2023, valida solo fino all'8 agosto, quindi bisogna fare in fretta, ed è così composta. Treno gomme in omaggio della Dallop, a tua scelta per misura e qualità, omologata per la circolazione stradale, Pensando soprattutto alla tua sicurezza, ho voluto che ti fossero date delle pastiglie freno della Bremio, in mescola RS e LA, perché sono semplicemente il miglior prodotto presente sul mercato. Ti starei chiedendo su quali moto è valida questa offerta esclusiva, ma su tutte le moto presenti sul nostro sito www.motoargento.com e tutte le moto sono visibili qua, presenti, in negozio. Ecco come funziona, scegli la moto che preferisci, tra le nostre categorie, moto exclusive, moto pista, e moto normale. Scegli il modello che più ti piace, guarda con la massima attenzione le foto e dei video, ad altissima risoluzione, che abbiamo preparato, solo per te. Ora non ti rimane che compilare il fondo di contatto. Per la moto che hai scelto, e per il mio invio, entro massimo 4 ore, ti contetterà un nostro consulente esperto, pronto a servirti al meglio, dedicandoti tutto il tempo necessario. Ti envieremo il tuo volo personalizzato, del valore, di bel 1550 euro, per l'acquisto della tua prossima moto, e fisseremo un incostro nel nostro showroom, della durata di un'ora, dove ti accompagneremo, a visitare tutti i reparti della nostra azienda. Ma non finisce certamente qui. So quanto è importante per te la giusta manutenzione, ecco perché ho voluto farti un altro regalo, davvero eccezionale. Avrei diritto al prossimo tagliato, in abbonamento per tutto il 2024, ed è assolutamente gratuito, dove, come da consitudine, utilizzeremo solo ricambi originali, e olio badal, da tutti i massimi esperti del settore, riconosciuto come il miglior olio sul mercato, capace di garantire le miglior performance, in ogni situazione, anche le più gravose, come in pista, guarda questo video. E allora, cosa aspetti? Ci stai ancora pensando? La tua moto è qui, ad aspettarti. contattaci immediatamente, anche al numero 0362 500 577, lo ripeto, 0362 500 577, e ti prometto che ti farò vivere un'esperienza di acquisto, unica, ti metteremo in sella, ti aiuteremo come si fa sempre, ovunque e comunque, fra motociclisti. Moto Argento, lavorerà sempre, pensando a te, con amore, passione, dedizione, sempre!